Siamo con Rambaudi al termine di Boca Juniors Hawaii, partita che vi ha visto dominare in lungo e in largo, anche se c'è stata qualche difficoltà. Dici un po' le tue impressioni. È stata una partita combattuta in alcuni momenti, eravamo più organizzati, più bravi, come sempre in alcuni momenti. Abbiamo creato tanto, loro hanno creato un po' di meno, però sono stati rognosi nel rubare palla molto spesso di partire. Perfetto, allora grazie mille e un grosso in bocca al lupo.